Niente di nuovo, via. La copertura del teatro D'Annunzio è un po' una minestra riscaldata. Se ne parla da anni, quanto a digerirla, beh, è un'altra cosa. La politica c'entra, ovviamente. Il cappello sul D'Annunzio fu oggetto di campagna elettorale del proponente Guerino Testa nel 2014. All'epoca, l'opera venne brandita come alternativa all'altrettanto immaginifico e mai realizzato Ponte del Cielo di Luciano D'Alfonso. Testa, all'epoca esponente del nuovo centrodestra, presentò il progetto di copertura dell'anfiteatro, un intervento che, secondo i favorevoli, avrebbe consentito l'utilizzo della struttura praticamente tutto l'anno. Poi non se ne fece nulla, ma qualche giorno fa questa storia è tornata d'attualità, prima con il quotidiano Il Centro, poi alimentata dal fuoco dei social. Tra i protagonisti della polemica e tra i contrari c'è anche Tino Di Sipio. Siccome parliamo dell'unico anfiteatro su tutta la costa adriatica, peraltro realizzato da una mente eccezionale come l'ingegnere Vicentino Michetti, con una stele nel 1963. Quindi parliamo di un teatro chiamato così, se andate su Google, il teatro monumentale. Ora, a coprire i monumenti, mi viene quasi in mente che forse fra cento anni i miei nipoti dei nipoti dei trisavoli dei nipoti potranno vedere anche il Colosseo, coperto di cristallo, ma lì lo si capisce perché probabilmente non sarebbe possibile andare contro le intemperie o le temperie, a secondo di come la vogliamo vedere. Il discorso è che questa diventa una cosa inutile. Io mi sono allarmato perché l'ho visto fra le opere del triennale. Siccome devo riconoscere al sindaco Carlo Masci, amico, ma veramente amico, che sta facendo grandi e belle cose per rendere ancora più bella Pescara. E so che quando dice le cose poi le fa, io mi sono terrorizzato perché ho pensato me lo metti nel triennale, in capo a tre anni, tu mi copri il teatro all'annunzio. Cioè, puoi coprire di che? Di che parliamo? Un anfiteatro, parliamo di quelli di Agrigento, parliamo di Epidauro. È noto per quello, per il fatto che la gente siede, peraltro, non seduto comodamente in poltrona come un teatro normale, ma messo proprio sulle scalinate, sulle gradinate e ha la caratteristica di avere sopra la testa le stelle. Questa cosa non ha senso, o allora fosse possibile e fosse voluto dalla gente, la necessità di avere un'istruttura come la riscaldate l'inverno. Grazie.